Musica Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale o benvenuto a chi è qui per la prima volta e spero siate numerosi Andiamo oggi a fare il vestibolo, diciannovesimo episodio della serie Medieval Remake ovviamente Vediamo se ci darà del filo da torcere visto che dovrebbe essere uno degli ultimi video Andiamo C'è un filmato Ok la nave fantasma, lo ascello fantasma dove eravamo ci sta portando qui dove c'è questa specie di castello Chi la sta manovrando? Abbiamo già finito il livello? Qui Zarok svolge la sua routine di stregone malvagio, cerca di non disturbare i demoniati impegnati nel turno di pulizie e toglieti le scarpe Ok eccomi qua Vedete il libro aperto semplicemente perché mi ero reso conto di essere senza boccette di la vita E quindi niente, sono andato a prenderle per poi tornare Quei demoniati dispettosi hanno preso di noi i libri di incantesimi di Zarok Ora sono protetti dalla magia Che furfantelli Anche perché essendo uno degli ultimi livelli credo che ci voglia un po' più di vita Per affrontarli Qua dietro non c'è assolutamente niente Qua Aspettate, vediamo prima dall'altra parte Ma vaffanbagno, ma perché mi spavento pure? Perché una spadata le ammazziamo facilmente, direi che Cosa succede? Niente, da ogni parte spunto là sotto Però non c'è nulla di qua Ok, sembrerebbe non esserci nulla Andiamo avanti Facciamo attenzione a questi, ma neanche tanto Più che altro potrebbero rubarci la spada Ma noi ci pariamo Notate che siamo già al 38% Andiamo prima di qua? Non so se scendere o salire prima Scendiamo Anche perché di qua c'è già il calice Quanti libri ci sono? Sappi che se liberi le anime intrappolate in questo rumo Dovrai aiutare a ritenere Sappi che se liberi le anime intrappolate in questo rumo Dovrai aiutarle ad ottenere il meritato riposo Questo ti farà di certo ottenere un posto nella storia di Galomir Come il più grande dei tuoi eroi Se te la senti? Se lo farei diventare una vera e propria leggenda Ok, abbiamo trovato la prima anima perduta Vi spiego che cos'è Da quello che ho capito io Se non sbaglio dovrebbe esserci una 19-20 di queste anime perdute Se le trovi tutte e le porti dove ti chiedono Sblocchi il gioco originale Con la grafica originale della Playstation 1 E' una chicca che ha voluto fare i creatori di questo remake Che a me non dispiace Ovviamente In questa serie non andrò a farli Anche perché sarebbe un ripetersi degli stessi livelli E non avrebbe granché senso Però liberiamo quest'anima Vediamo cosa succede Ecco qua Parla con l'anima smarrita Il pesce più grosso che io abbia mai visto Mi ha trascinato in acqua E' proprio nel lago vicino al villaggio Avresti dovuto vederlo Di sicuro ancora là Ok, potrebbe parlare del villaggio addormentato Dove c'era una specie di laghetto Adesso se non ricordo male Questo qui dovrebbe essere un indizio per dove andare Anima smarrita ritrovata Ah Guardate qua se andiamo sul nostro inventario Andiamo tutto a destra Ci sono le anime smarrite Formessi il pescatore pesca il villaggio addormentato Preciso Dove avevo detto io Dove avevo immaginato Anzi io Va bene In questo libro Ho semplicemente il diario segreto Di Zarok Dove parla male di Daniel Chi dava già fastidio a corte Chi si impicciava sempre Questo qui è un libro di incantesimi Ma non c'è niente di che Dietro la cascata c'è qualcosa? No? No, non c'è nulla Dovremmo tornare qua a prendere il nostro calice Siamo al 72% Andiamo prima su e poi ritorniamo Potrebbe essere un livello molto breve questo Se siamo già al 72% Immagino non duri chissà quanto Ah si scendeva anche dall'altra parte Bene Ah vedete Ammazzo questi e siamo già al 100% No, più o meno 94 Recuperiamo la vita che ci manca Ce ne manca veramente poca Qui ci sono delle scale Però Questa luce verde Non sta visuale così Non si capisce niente Aspettate però Io sopra non avevo finito Vediamo Vediamo cosa c'è prima di qua Questo luogo strano Ora possiamo raccogliere il calice Va bene Cos'è sta roba? Se prendessi martellate Non succede nulla Io andrei a recuperare subito il calice E a vedere che forse ho lasciato una stanza O un luogo da visitare Un attimo Di qua Non c'è nulla No Prendiamo il calice Il salone degli eroi ci attende Immagino ci daranno altre monete Semplicemente Armi non credo ce ne daranno più Ma già da un po' questo Allora scendiamo di qua Recuperiamo di nuovo la vita E andiamo a concludere il livello immagino A meno che non ci sia un boss Qualcosa Andiamo di qua No è finito il livello Semplicemente Eccoci nel salone degli eroi La garguia ormai non ci parla più da un po' Vediamo se ha qualcosa di interessante da dirci Non sarebbe questa una bellissima attrazione turistica Venite a vedere Sternegard il potente Venite a vedere l'ultimo di centauri Oh e guardate quel buzzurro laggiù E Daniel Forteschi L'aspirante eroe Non vedo l'ora di finire il gioco solo per farli Smettere di insultarmi Sti deficienti qua Ah ci sono praticamente tutti Ne manca uno dai Quello qua Ne manca solo uno Stavolta la statua che ci dà qualcosa è questa qui Prendiamola E andiamo a finire poi il video Ma come è fatto a non saperlo? Sì Dai Ma vaffanbagno Ma sono già pieno di vita Vabbè Dammi monete a sto punto Eccoci qui Andiamo a vedere come si chiama l'ultimo livello Andiamo giù Il segnatempo A giudicare da quello che è lo spazio per i calici Che ci sono su quel tavolo nel salone degli eroi Questo dovrebbe essere l'ultimo livello Guardate è spuntata Un'icona comunque di fianco al calice Ma che stavo guardando Mi è saltato all'occhio che c'è Vicino al calice Anche qua Un nuovo simbolo Immagino siano le anime perdute Quindi anche qui ne troveremo un altro Va bene Per questo video direi che tutto È stato molto breve Immagino Non so di quanti minuti Sarà diventato una volta editato Se vi è piaciuto Vi chiedo di lasciare un grande like Iscrivervi al canale Ed attivare la campanellina E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao